Un accordo che premierà il superlavoro svolto dalla prima linea dell'emergenza. Una sorta di premio per i grandi sacrifici del fronte del covid, ma pure un incentivo in più a enfatizzare la missione del pronto soccorso, arginando la fuga verso altre professioni sanitarie. E' questo il doppio filone su cui si instrada l'importante accordo siglato fra la Regione Marche e i sindacati delle professioni sanitarie regionali. E' stato infatti stabilito un premio da 80 euro al mese per tutti gli operatori del pronto soccorso e del 118 come indennità per tutto il 2022 appena trascorso. Riguarderà infermieri, os, ausiliari, autisti, tecnici e amministrativi che si occupano d'emergenza. La Regione investe dunque quasi 1.300.000 euro per coprire le indennità di quasi 2.000 lavoratori. Un premio da circa 1.000 euro l'anno in attesa di una programmazione e di una regolamentazione più strutturale della categoria.